Un saluto cordiale dalla redazione sportiva, una notizia tragica ha sconvolto il mondo del calcio e dello sport abruzzese. E' morto infatti ieri alla tenera età di appena 5 anni il piccolo Edoardo, nipote del presidente del Teramo Calcio Luciano Campitelli e figlio primo genito di Francesca Campitelli e Michele De Luca. Il piccolo Edoardo che sin dalla sua nascita ha sempre dovuto convivere con la malattia e è venuto a mancare la notte scorsa a causa di una crisi respiratoria. Il funerale è celebrato nel pomeriggio a Canzano in provincia di Teramo presso la chiesa di San Biagio. Ai genitori Francesca e Michele, al presidente Luciano Campitelli vanno le più sentite condolianze da parte dell'intero staff dirigenziale, giornalistico e tecnico della TV dell'Adriatico. Ed un pensiero ed un abbraccio in questo momento di lutto va anche ai colleghi di TV6, l'emittente di proprietà dello stesso Luciano Campitelli che con il dolore nel cuore proseguono con professionalità il proprio lavoro. Per quanto riguarda invece le notizie relative alla giornata di oggi, in Serie A dopo aver ceduto il pezzo pregiato di casa Marco Verratti alla Paris Saint Germain, il Pescara ha già in mano il sostituto del talentuoso centrocampista che si è legato contrattualmente per i prossimi 5 anni al club francese che intanto ha ufficializzato anche l'ingaggio dell'attaccante Zlatan Ibrahimovic dal Milan e che rimarrà nella capitale francese per poi partire alla volta degli Stati Uniti dove il PSG sarà impegnato in tournée. Dicevamo il Pescara ha già individuato il dopo Verratti e in arrivo infatti dall'Atletico National il regista colombiano 19enne Juan Fernando Quintero. Dal Sud America per il mercato del Pescara arriva una notizia buona e un'altra tutt'altro che positiva, almeno per il momento. Manca ancora l'ufficialità e la firma sul contratto ma è in dirittura d'arrivo l'affare con i colombiani dell'Atletico National per portare in riva l'Adriatico Juan Fernando Quintero, colui che secondo i piani del club biancazzurro dovrà rimpiazzare Marco Verratti passato al Paris Saint Germain. La conferma del fatto che la trattativa è vicina, la conclusione arriva direttamente dalle frasi rilasciate dal 19enne fantasista Quintero a Telemedellin dove in pratica conferma, o quasi, il suo passaggio al Pescara. Quintero, una volta sbarcato in Italia, firmerà un contratto che lo legherà al Pescara per i prossimi 5 anni. Secondo indiscrezioni guadagnerà 200.000 euro più una serie di bonus che possono far lievitare l'ingaggio di altri 100.000 euro. Nelle casse dell'Atletico National finiranno 2 milioni e mezzo di dollari più una percentuale vicina al 10% per la futura vendita di Quintero. Per un affare fatto, un altro che evapora. Si blocca infatti l'affare per Carlos Munoz. L'attaccante cileno era stato bloccato dal Pescara ed in Cile il procuratore Bagnoli era al lavoro con il Colo Colo per limare i dettagli e chiudere l'operazione. Nel frattempo, però, Munoz ha continuato a segnare a Raffica tre gol tra campionato e Coppa. Il direttivo del Colo Colo per controrisposta ha alzato l'asticella in termini di richieste, passando dal prestito con diritto di riscatto a una vendita a titolo definitivo per 4 milioni di euro. Cifra che ha spiazzato il Pescara che per il momento ha lasciato perdere. Per il reparto avanzato sono sempre in piedi le proposte per gli svedesi Selig e Rosenberg. Per il primo, Selig, la strada con il Geis Göteborg appare in discesa. Con l'ex attaccante del Werder Bremen, Rosenberg, bisogna sedersi e parlarne a tavolino con il procuratore Dalin, che l'agente del giocatore in Italia Canovi incontrerà nel fine settimana insieme a Delicarri per provare a strappare il sì del calciatore. Per la difesa i nomi più gettonati al momento sono quelli del terzino del Parma Modesto e del centrale brasiliano Bruno Uvini, che se il Napoli dovesse strappare al San Paolo, girerebbe in prestito al Pescara. In Serie B, presentata la campagna abbonamenti presso il Trabocco a Rocca San Giovanni, punta Cavalluccio, il Lanciano è sempre impegnato sul mercato per individuare gli umini giusti, per rinforzare la rosa che il tecnico Carmine Gautieri avrà a disposizione. Arrivato il difensore Bacchetti dal Pescara, presto in rosso-nero Lella Sverona girerà in comproprietà un altro difensore, lo sloveno 23enne ex-coper Daniel Masseta. Dopo il fallimento del Siracusa, da segnalare un ritorno di fiamma per l'attaccante francese Mohamed Fofanà l'anno scorso in forza proprio al sodalizio siciliano, in avanti a buon punto la trattativa con Testardi della Sampdoria si monitora anche l'attaccante abruzzese Daniel Ciofani, nella passata stagione Otto Reti in Serie B con il Gubbio. E per quanto riguarda il campionato di Lega Pro, dopo il rinnovo contrattuale con il difensore centrale capitano Alfonso Pepe, il Chieti rinforza il proprio organico, prelevando in prestito dal Parma il trequartista Domenico Mungo, l'anno scorso in Serie D con la maglia degli Emiliani del Pro Piacenza. Il centrocampista offensivo classe 93 calcisticamente è cresciuto, come detto, nelle giovanili del Parma e arriverà a Chieti con la formula del prestito. A breve l'operazione sarà ratificata con l'ufficialità. E questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda questa edizione della Notizia Sport. Io vi ricordo che questa sera, come tutte le sere, dal lunedì al venerdì a partire dalle 22.15, andrà in onda Fuori Budget il programma di calcio mercato dedicato al Pescara, curato dai colleghi Giovanni Toltodonati e Luigi Di Marzio. Si parlerà dell'affare Verratti ormai concluso e soprattutto si discuterà dei nuovi arrivi imminenti in Casa Pescara. Grazie per la cortese attenzione, arrivederci.